Siamo con Davide Grazia all'interno dell'Abergo Dormiti in quanto oggi è veramente impossibile star fuori per la pioggia anche se in realtà si è fatto una bella camminata anche lui con tutta la squadra sotto la pioggia lo stanno un po' prendendo in giro perché insomma Davide è uno molto ottimista quindi avevi detto che doveva smettere di piovere invece invece ce la siamo presa tutte no diciamo abbiamo fatto una camminata corsa questa mattina e sotto l'acqua purtroppo però dai è andata bene fa parte del gioco fino adesso diciamo abbiamo avuto un'estate che di bel tempo dove non abbiamo preso molta acqua durante gli allenamenti quindi è andata bene e ogni tanto ci sta Senti Davide ci siamo sentiti prima cioè all'inizio insomma di questa preparazione di questa tua avventura all'interno del gruppo con Marcus Kramer ecco come è andata anche per esempio anche in Norvegia insomma come stanno procedendo adesso le cose? Sì diciamo quest'anno sono cambiate un po' di cose i carichi di lavoro sono più intensi e diciamo con molta corsa quindi anche le gambe dopo diciamo la seconda terza quarta settimana di carico si a far sentire sono soddisfatto fino adesso perché diciamo in tutti tutti gli scarichi sono riuscito a recuperare bene il mio fisico ha riuscito bene a tutti questi carichi quindi sono molto positivo e molto contento di questo appunto sì Norvegia diciamo abbiamo fatto due raduni al nord uno tra Torsby e Lillehammer no uno tra Torsby e Olmenkollen e l'altro tra Shushoen e Sunnes dove abbiamo fatto le gare del bling diciamo per allenarsi l'estate è un posto molto comodo perché queste strade poco trafficate anche se purtroppo come abbiamo visto è successo anche lì è successa una disgrazia purtroppo però bisogna dire che è un posto che si adatta bene a fare dei lunghi allenamenti di schirol di corsa di tutto poi hanno le piste di schirol insomma sono molto attrezzati quindi sono stati sicuramente due raduni molto produttivi secondo me e sono contento appunto che il mio fisico abbia reagito bene come è stata la prima esperienza al bling festival ma diciamo noi arriviamo alla quarta settimana di carico di sicuro non l'abbiamo preparata siamo arrivati lì più che altro per fare finire il nostro carico di allenamento eravamo tutti stanchi io io compreso diciamo abbiamo iniziato con un lisebotna abbastanza dai sensazioni anche abbastanza ancora buone e anche se sì la stanchezza dei carichi di lavoro si sentiva e per poi insomma la 50 ho faticato un po di più la 15 nel mentre invece la 15 all'interno del paese mi sono divertito insomma è stato bello mi sono qualificato per le fasi finali e poi insomma l'ambiente era molto bello il clima era molto bello in questo giro circuito di 13 giri dove insomma con musica tanta gente insomma era una bella una bella festa dello schirole insomma e sicuramente da rifare ecco mi hanno riferito che insomma hai fatto un ottimo 3000 ieri in in pista sì no per la prima volta sono andato sotto i nove che non mi era mai successo diciamo c'è anche da dire che gli altri anni lo facevo sempre da solo questa quest'anno l'abbiamo fatto in gruppo quindi diciamo grazie al treno di chicco è stato possibile non so se ce l'avrei fatta da solo però sicuramente il prossimo obiettivo è di riuscire a di riuscire a andare sotto i nove senza dei treni ti so che sei un atleta che sa anche molto attento alla fase di di riposo no mi spieghi ecco quanto è importante secondo te anche quell'aspetto durante la preparazione cioè riposare bene e anche per esempio so che il pomeriggio tu prendete dormi sempre si diciamo probabilmente sono una della forse quella della squadra che che gli piace anche che riposa forse anche di più non so se perché sono il più giovane o cosa comunque si diciamo generalmente il pomeriggio anche perché in raduno non è che ci sia poi tutto tantissime cose da fare quindi insomma generalmente dormo dormo un'oretta un'oretta e mezza pomeriggio e sì cosa che a casa generalmente non faccio perché c'è sempre qualcos'altro da fare comunque sì sicuramente quando fai questi carichi di lavoro carichi di allenamento così alti io sento il bisogno di riposare e penso insomma che sia la base affinché il tuo fisico possa recuperare tra un allenamento e l'altro l'ultima cosa visto ieri un po il il gruppo che vedevi in allenamento comunque mi sembra ci sia anche un buon amalgamo all'interno del gruppo un buon clima nonostante comunque per esempio tra te e pellegrino per esempio passano dieci anni sì no siamo un bel gruppo ci troviamo bene e ovviamente sì c'è tanta differenza di età non so ma è appunto chicco però sì tutti ci troviamo bene giochiamo quasi ogni sera risico a giochi da tavola insomma ci sono delle belle sfide e almeno ogni tanto lì almeno lì ogni tanto qualche sfida la vinco anch'io la discorsi si è arrivato vicino in pista agli italiani però dai eh sì dai l'obiettivo adesso è di migliorarsi ancora quello è anche a risico no grazie alla prossima volta vengo anch'io a giocare a risico grazie mille david